Bentornato Goodyear, bentornata. In questa lezione andiamo un pochino fuori dalla cronologia classica di Windows. Oggi ti parlerò dei nomi, in particolar modo dei DNS. La sigla DNS sta per Domain Name System, ossia sistema dei nomi di dominio. In pratica, computer serve in giro per il mondo che sono collegati tra loro in cui vengono archiviati in maniera distribuita tutte le assegnazioni tra i vari nomi di dominio e indirizzi IP dei vari siti, delle varie utenze. Sì, ma cos'è in fin dei conti? A cosa serve? Immagina di dover andare a trovare una persona in un qualsiasi luogo. Hai bisogno di riferimenti. Che siano banalmente tempo, galassia, pianeta, invece nazione, città, via, numero civico, scala interno quanto più dettagliato possibile. Senza questi dati non riuscirai a raggiungere questa persona. È abbastanza semplice al giorno d'oggi, no? Ora, in questo tempo così tecnologico, inseriamo questi dati in un navigatore e in pochi secondi verranno snocciolati i vari percorsi a seconda del tipo di mezzo che vogliamo impiegare. La macchina del tempo, un'astronave, un'automobile, i mezzi pubblici oppure fino anche a piedi. Ok, fatto. Partiamo e arriviamo con tempi in modi diversi. La successiva volta che dovrai andare sempre in quella zona impiegherai gli stessi dati. Tutti questi dati sono all'interno del tuo navigatore e di ogni navigatore. In un archivio di tutte le galassie, pianeti, nazioni, città, banalizziamo finché vogliamo. L'utilizzo è reso semplice dal fatto che si devono inserire parametri di esperienza quotidiana, in pratica ciò che già ben conosciamo. Immagina invece di dover inserire dei parametri del tipo 41,87 varie e 12,466 eccetera. Sono coordinate GPS di un luogo del pianeta Terra, latitudine e longitudine nello specifico, punti univoci e precisi al millimetro. Credi sia più facile interpretare e ricordare un indirizzo del tipo di una via oppure quello di una latitudine e longitudine, quindi tutti i dati numerici? Bene, credo tu abbia capito l'esempio e quindi possiamo tornare alla questione dei DNS. Durante la nostra navigazione internet digitiamo o clicchiamo sul link che rimandano a siti di varia natura ed indirizzi. Se dovessi eseguire una ricerca generica digiterai nella barra degli indirizzi www.google.it o qualsiasi altro motore di ricerca. Il browser interpreterà questo indirizzo chiedendo ai server più vicini e relativi al fornitore di accesso internet l'indirizzo IP del sito in questione e te lo presenterà con tempi variabili. Se invece dovessi ricordarti l'indirizzo IP del sito di google.it ad esempio uno dei quali può essere http 172.217.9.163 penso sarebbe un po' più ossico. Che ne dici? Se poi ne dovessi avere più di uno dovessi creare una rubrica. Impossibile quindi ricordare questi numeri. Un po' come si faceva moltissimo tempo fa con i numeri di telefono. E' praticamente impossibile ricordarne molti. Bene il sistema DNS semplifica il tutto consentendo di digitare un indirizzo facilmente memorizzabile il luogo di un indirizzo IP per navigare. E meno male che ci sono i DNS. Il sistema DNS è costituito quindi da vari computer che presentano l'archivio di tutti gli indirizzi corrispondenti ai domini già assegnati. Ora quindi che ce ne facciamo? In sintesi quando navighiamo ci colleghiamo a dei server dei provider che chiamano i server dove sono alloggiati i vari siti che vogliamo consultare. La risposta dei siti vale in base alla distanza dal nostro pc, da eventuali filtri applicati dai provider o governi oppure da caratteristiche hardware e anche dalla banda che hai a disposizione. Lasciamo perdere questi ultimi due parametri. Questo significa che potremmo avere dei ritardi di visualizzazione quindi un degrado delle prestazioni della navigazione o addirittura che ci venga inibita alla possibilità di accedere a dei contenuti tramite delle censure. Infine non meno importante anche essere reindirizzati su siti malevoli che contengono malware. È possibile lavorare su questi DNS per ottimizzare questa situazione. Puoi alterare i valori di connessione ai siti cambiando le impostazioni della tua navigazione o all'interno del router o della connessione. Si possono quindi cambiare i DNS manualmente o facendo uso di programmi di terze parti. Una possibile azione è quella di impostare il valore di DNS primario e secondario per una questione di ritondanza manualmente agendo nelle impostazioni della connessione. Come? Vai nella sezione impostazioni e clicca sul pulsante rete ed internet. Accederai a questa interfaccia. Dopodiché individua la sezione modifica opzioni scheda e cliccaci sopra. Verrai indirizzata nella zona delle connessioni e a seconda se tu hai una connessione via ethernet o wifi apri il menu con il tasto destro del mouse selezionando in seguito il pulsante proprietà. Accederai a quest'altra schermata e vai ora ad individuare protocollo internet versione 4. Clicca su questa descrizione e poi successivamente su proprietà. Accederai alla zona in cui puoi visionare o cambiare i parametri DNS per la tua connessione in questa sezione. Normalmente potrai ottenere gli indirizzi server DNS automaticamente quindi sarà settata questa opzione ma selezionando quella inferiore utilizza i seguenti indirizzi server DNS potrai inserire l'indirizzo server preferito e quello alternativo. Chiudi a questo punto tutte le varie schede cliccando su ok il gioco è fatto. Potrai verificare la variazione appena inserita individuando la proprietà della connessione verificando che avrai il valore da te impostato. Ciò può essere anche eseguito all'interno del router che utilizzi anche se non sempre è vero. Questo cambierà anche di marca e marca ma sarà sufficiente entrare nella configurazione dello stesso tramite le tue credenziali e cercare la zona delle connessioni di rete dove potrai impostare i due valori dei server DNS per la navigazione. Ok ma quale inserire? Beh dipende da ciò che vuoi ottenere. Se vorrai migliorare la velocità di navigazione dovrai individuare quali server risponderò più rapidamente. Se invece vorrai avere una tutela per il tuo pc per tutelare quindi i bambini e la tua famiglia dovrai scegliere i server di aziende che mettono a disposizione indirizzi DNS sicuri. Infine se vorrai evitare censure dovrai impiegare indirizzi DNS di nazioni che non censurano i contenuti che vorrai consultare. Una lista dei server che si possono utilizzare la trovi online con una semplice ricerca. Comunque non è una lista fissa ma può essere implementata nel tempo ma consulta sempre le eventuali variazioni. Qui ho riportato una serie di alcuni nomi dei server di Google, Komodo e Norton Antivirus oppure dei server di OpenDNS oppure del server Cloudflare. Sarà sufficiente inserire nella sezione primaria e secondaria questa serie di numeri e cliccando su ok avrai reindirizzato la tua navigazione sui server dell'azienda che avrai selezionato che avrai scelto. Ricorda che esistono anche malware che dirottano la tua navigazione cambiando DNS della connessione rendendoti più o meno cosciente del fatto. Quindi occhio se installi qualche programma o qualche plugin oppure sui banner o sui annunci che andrai a cliccare durante la navigazione. Termino indicandoti degli strumenti che possono tornarti utili. Il sito qui evidenziato ti consente di individuare indirizzi IP dei vari siti mentre questi altri due programmini sono dei programmi portatili che ti permetteranno di cambiare gli indirizzi DNS da una lista che ti evidenziano potendo andare a scegliere una maggior velocità o una miglior sicurezza e in quest'ultimo caso avrai inibita quindi la possibilità di collegarti a siti particolarmente pericolosi. Bene Goodwill andiamo a vedere rapidamente come cambiare i nostri server DNS dalla sezione impostazioni. Clicchiamo sul pulsante rete e internet dopodiché individua la sezione modifica opzioni scheda. Qui hai in lista le tue possibili connessioni che siano via Ethernet o via Wi-Fi. Sarà sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sulla connessione che stai utilizzando scegliendo proprietà. Da questa nuova sezione individua protocollo internet versione 4 e successivamente cliccando su proprietà come vedi normalmente ottieni gli indirizzi server DNS in maniera automatica ma potrai impostarli manualmente tramite questa sezione. Per semplicità vado a mettere i server DNS di Cloudflare ma potrai inserire qualsiasi altro valore. Dopodiché cliccando su ok e chiudendo le varie schermate potremo andare ad individuare dallo stato della connessione e successivamente dai dettagli l'avvenuta variazione dei server DNS. Quindi in questo caso sarai rindirizzato tramite i server di Cloudflare. Potrai in qualsiasi momento andare a cambiare questi parametri di nuovo o rimuoverli semplicemente tornando nella sezione dedicata o cambiando i numeri e gli indirizzi dei server DNS oppure ottenendo di nuovo questo indirizzo in maniera automatica cliccando su ok andando ora a verificare l'avvenuta variazione e il ritorno alla navigazione tramite server DNS standard che sono dettati dal tuo router e dal tuo provider. Quindi in qualsiasi momento potrai gestire al meglio la tua connessione. Ricorda che puoi cambiare anche in maniera automatica tramite dei programmi di tercer party link a dei programmi che ti metterò nelle note dell'episodio e li potrai scegliere dalla lista presentata o in base a una sicurezza o in base alla velocità senza andare a smanettare direttamente i parametri da te stesso. Ok nella prossima lezione ancora nuove informazioni per Windows 10. Ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima Ciao a presto! Ciao a presto! Ciao a presto! Ciao a presto!